Primo posto al concorso nazionale Idea Plastica per pulire il futuro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Spataro di Calamonaci, plesso facente parte dell'istituto comprensivo Don Bosco di Ribera, guidato dal dirigente Anna Maria Conti. Il concorso è stato indetto dal Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, in collaborazione con Libri Progetti Educativi. Una giuria di esperti ha selezionato tra tutti i lavori pervenuti dalle scuole le 10 azioni green più efficaci e originali, attribuendo il primo premio, una fornitura per 24 alunni di Lego My Storms Education all'istituto comprensivo Don Bosco. L'iniziativa del Corepla era finalizzata a rendere più bello e pulito il luogo in cui si vive, liberandolo dai rifiuti e realizzando un'azione ecosostenibile per promuovere e incentivare la raccolta e il riciclo degli imballaggi e dei materiali in plastica monouso. Il progetto, coordinato dall'insegnante Giovanna Costa con la collaborazione della collega Angela Sant'Angelo, si è articolato in due momenti. Il 18 febbraio si è svolto il convegno idea plastica, tutti a raccolta, durante il quale gli studenti hanno messo in evidenza la sfida attuale, quella di non demonizzare ma fare un uso più razionale delle materie plastiche. Successivamente, nonostante la chiusura della scuola a causa dell'emergenza sanitaria, è stato realizzato il prodotto finale, un'originale storia a fumetti dal titolo Detective Coach o Missione Spataro Village. Protagonisti del fumetto, gli stessi alunni e tutti gli abitanti di Calamonaci, chiamati a portare al termine un'importante missione, liberare lo Spataro Village, ovvero il plesso Spataro, dalla plastica. Con l'aiuto di due simpatici personaggi, il Detective Coach e il Prof Bansen, del sindaco di Calamonaci Spinelli e dell'associazione Marevivo, che si impegnano a fornire i lunchbox, le borracce in alluminio e i dispenser per l'acqua, la missione è compiuta. Lavoro che ha conquistato la giuria, guadagnando così il primo premio al concorso.